Ora vi spiegherò che cos'è un angelo. Un angelo viene creato per un solo scopo, cioè per rendere più leggero il nostro percorso, cioè per aiutarci, per renderci più leggera la vita. Capite? E' quello il loro compito. Gli angeli lavorano attraverso le persone e gli animali quando è necessario. Per un angelo è molto faticoso apparire davanti a una persona su un piano tridimensionale. Non è facile, voglio che lo capiate. Quando nasciamo, come minimo abbiamo due angeli custodi. Perché non uno? Perché a volte è necessario che loro mettano insieme le loro forze. Qual è il compito di un angelo custode? Non è quello di guarire. Un angelo custode esiste per proteggerci in modo tale che non moriamo prima del nostro momento. Questo è il compito degli angeli custodi. Quindi se diventate per esempio un pilota professionista di auto e fate le corse, quindi è uno sport molto pericoloso, non avete due angeli custodi. Magari ne avete venti. Capite? Più fate cose pericolose, più avete bisogno di angeli custodi che vi proteggano affinché non moriate prima del vostro momento. Una volta, un giorno, una persona mi ha dato un adesivo di quelli che si mettono sul paraurti della macchina. Mi ha detto non guidare più velocemente di quanto possano volare gli angeli. Voglio che capiate il principio degli angeli. Quindi se c'è bisogno di fare qualcosa a livello fisico, gli angeli possono usare una persona affinché interrompere in quella situazione. che avvenga in quella situazione.